Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, è tornato sui social dopo mesi di vicissitudini. Il giovane ha pubblicato un selfie con uno sfondo scuro e l'ha scritta Day 3, no alcohol, no weed, no hash, indicando di essere al terzo giorno senza alcolici e droghe. Questo segna un possibile cambiamento dopo un periodo difficile in cui il suo nome è stato coinvolto in polemiche per droga e comportamenti discutibili. Dopo aver chiuso i suoi canali social a seguito delle critiche ricevute, Achille ha deciso di tornare online per raccontare la sua difficile esperienza con la dipendenza da sostanze stupefacenti. Nonostante i suoi sforzi per cambiare e migliorare, continua a essere oggetto di critiche e commenti negativi sui social. Recentemente ha condiviso un post su Instagram con alcune foto di tramonti al mare, ma i commenti sono stati ancora una volta pieni di giudizi negativi sulla sua persona. Nonostante abbia riconosciuto i suoi errori e stia cercando di migliorare, sembra che Achille non riesca a sfuggire alle critiche del pubblico. È evidente che il giovane abbia avuto un passato difficile, ma continuare a attaccarlo su ogni minimo dettaglio, potrebbe non essere la soluzione migliore. Achille ha ammesso i suoi errori e sta cercando di cambiare.